CARACTER I personaggi che hanno fatto la storia dello sport raccontati da Federico Buffa Credo che ci siano stati dei giocatori di calcio che hanno toccato il nostro immaginario più di altri Terminata l'era di Pelé e iniziata quella di Maradona al momento siamo nell'era Messi con concorso di Cristiano Ronaldo secondo me c'è un giocatore che è stato testa e spalle su tutti il suo nome Miquel 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 Grazie a tutti.